E che ricordi in quel luogo, presso nelle distanze del tempo, c'era Anse, c'era Unnosi, c'era quella valle che riparta la costellazione dell'Orione, la valle di Giza. Immaginate di entrare nella più grande delle tre piramidi, la piramide dei piedi e di percorrere un lungo corridoio al centro del quale provate a stare, dove si è un Mishanoni. Sotto a una runa giallo occhio, lo Siamano grida il suo volto e il fratello si è pronto a ballare nel delirio che voglio portare. Un mondo di musica, un mondo di musica, vogliamo volarvi la nostra energia! Tutte le mani che vanno! Tutte le mani che vanno! Tutte le mani che vanno!